FACILI! Difendiamo l'obiettivo! Prego, un po' di fiumbo! 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 No, no, no! Il fuoco di fiumbo! Non abbassare la bambina! Sono rimasti in fuochi, finiti. Ci sono io, soldato. Servono munizioni! Vieni! A tre munizioni! Vieni a guardare! Vieni a guardare con la posta! Il carro al pato di Mico! Corazzo a salvare! Scarica! Sì! No 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 Stop pensando le carte No 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 Carica e piazzate Apertura Per soldato la guerra è finita Carica in posizione Está Le restano fuori, non volate. Abbiamo fatto il pezzo. Il sistema è realizzato. 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 Ok. Sì 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti